Acquistare i biglietti per attraversare lo stretto di Messina, a bordo dei traghetti di Carontenturist, anche presso le oltre 30.000 tabaccherie.lis. Il nuovo servizio, frutto di un accordo tra Carontenturist e Servizi in Rete 2001, società della Federazione Italiana Tabaccai, attraverso la piattaforma tecnologica di LIS, consente di acquistare il biglietto del traghetto comodamente sotto casa e in qualsiasi momento senza neanche il bisogno di conoscere la propria data di partenza. I biglietti acquistati presso una tabaccheria.lis infatti saranno titoli integralmente open, ovvero non riporteranno una data di partenza specifica da rispettare, ma, come da sempre avviene, per i collegamenti stradali di trasporto pubblico locale potranno essere utilizzati quando si desidera. Nei casi di biglietti andata e ritorno, il tempo utile per poter effettuare il viaggio di rientro decorrerà dal momento in cui si concluderà il viaggio di andata, tempistica che resta variabile in base al tipo di biglietto acquistato. I biglietti non prevedono alcuna differenza di prezzo rispetto all'istino ordinario e sarà possibile acquistare titoli di viaggio per pedoni, auto, moto, pullman, camper e furgoni di lunghezza fino a 4,5 metri.